Questa mattina, durante l'intercessione, condotta dal vice-pastore, è stato dato un passo che ha confermato la parola che fra poco ascolteremo, ed era un passo che viene dai Romani, capitolo 12, dal versetto 1 al versetto 2. Dice Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, Ma siate trasformati, mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati. Questo è il core, il punto essenziale. Siate trasformati. La parola di Dio è balsamo per chi l'ascolta. Cambia anche le nostre espressioni. Dovremmo sorridere tutti quando ascoltiamo Gesù parlare, come se vedessimo qualcuno che amiamo, che ci parla personalmente. Perché Gesù guarda anche i nostri volti. E il Signore è pace e gioia. Non è tristezze musilunghi. Pace e gioia. Il messaggio di questa mattina ha un titolo, come tutti i messaggi. Vi chiedo di stare molto attenti, per cortesia, perché è parola di Dio. Su questo sono severo. Non voglio vedere distrazioni, perché mi tolgono la concentrazione. Parlerete dopo. Abbiamo parlato domenica scorsa della necessità di seguire Gesù lungo la strada che lui ci traccia. Perché il Signore va per una strada dritta. E vuole che noi lo seguiamo, non lo anticipiamo. Il Signore vuole essere seguito, non portato lui. Noi non conduciamo Gesù. È Gesù che conduce noi. E il Signore va per una strada dritta. Una strada giusta. Vuole che noi seguiamo questa strada. Non che lo tiriamo noi nelle nostre strade laterali. Secondo i nostri modi di pensare. E secondo come ci sentiamo. Un giorno bene, un giorno male. Un giorno siamo sereni, un giorno non lo siamo. Un giorno abbiamo ira, un giorno abbiamo gioia. Il Signore non è così. Il Signore va per una strada dritta. E vuole che noi lo seguiamo per questa strada dritta. Quello che l'abbiamo detto domenica. Per cui questo che sia proprio qualche cosa che sentiamo. Perché abbiamo bisogno di seguire il Signore. Di non portarlo davanti a noi facendogli fare quello che vogliamo. Mi piace questo, mi piace quest'altro, non mi piace questo. Il Signore non vuole il nostro ci piace. Il Signore vuole il nostro. Io credo in te, Signore Gesù. E credo che la tua via sia quella giusta. Domeneica abbiamo parlato proprio di come seguire il Signore. Perché se noi lo vogliamo portare per le strade laterali. Lui non ci segue. Lui continua ad andare. Noi abbiamo, poi comincio con quello di oggi. Noi stiamo attraversando una vita che è una giungla. È tutto un caos. Non ci si capisce nulla. Cambia continuamente. Il mondo cambia completamente. L'uomo cambia le cose completamente. Quello che è valido oggi non è più valido domani. Quello che è valido domani non sarà più valido dopo domani. E noi dobbiamo vivere nel mondo. Perché noi siamo nel mondo. Anche se non dobbiamo dimostrare che siamo del mondo. Perché dobbiamo avere Gesù sempre. come cosa finale della nostra vita. Se noi abbiamo una mappa non conta niente. Perché la mappa ci porta da tutte le parti. E molte volte la mappa non la capiamo neanche. Io una volta sono andato al mare. Ho messo la mappa. Mi sono sbagliato. E sono andato a finire in provincia di Bologna. Pensavo che il mare fosse sotto le due torri. Secondo l'auto. Ma se io ho una guida la guida mi porta. Perché la guida mi porta lui. È Gesù che mi porta sulla strada giusta. Perciò per attraversare la giungla della vita che è difficile che è tortuosa io ho bisogno di una guida. E la guida è solo Gesù. Ecco perché dobbiamo seguire le strade. Non anticiparlo ma seguirlo. Gesù vuole essere seguito. Bene allora oggi vi parlo di una mia esperienza personale. Perché è importante poi vedere alla fine come il Signore quando ci parla ci fa anche attraversare un'esperienza personale dove metti in atto quello che Lui ha detto. Ho dovuto mettere in pratica in questa esperienza personale esattamente quanto il Signore mi aveva rivelato. Poiché però durante questa esperienza si sono aggiunti tanti altri dettagli voglio condividerli con voi perché sono certo che possono essere un aiuto prezioso anche per la vostra vita come lo sono stati per la mia. Dopo la morte di mia sorella che è avvenuta mentre io ero negli Stati Uniti con il pastore Cristallo e il pastore Michele Passaretti mi è stata comunicata da Miriam mentre eravamo seduti tutti e tre aspettando i nostri bagagli per cui non ho potuto né vederla né dare l'ultimo saluto ma così ha voluto il Signore. dopo la morte di mia sorella durante un incontro fra noi fratelli sono emersi alcuni punti di vista molto diversi e molto contrastanti. Mentre due di noi noi ora siamo rimasti in tre eravamo in quattro mentre due di noi erano disposti a sorvolare su tante cose mio fratello si è arroccato in una posizione sbagliata dalla quale non voleva scendere non voleva recedere nel modo più assoluto. poiché era necessario comunque un secondo incontro e io si appevo quanto sia difficile per lui ritornare sui suoi passi non l'ho mai fatto ho cominciato a preparare questo incontro con la preghiera col digiuno consapevole che certi demoni secondo la parola di Dio si cacciano solo ed esclusivamente con la preghiera e il digiuno in Matteo lo leggo io 17 20 21 Matteo 17 20 21 Gesù dice se avete fede quanto un granello di senape direte a questo monte spostati di qua a là ed esso si sposterà e niente vi sarà impossibile grazie per averlo messo ma questa specie di demoni non esce se non mediante la preghiera e il digiuno allora ho intitolato questo messaggio passo dopo passo ho dovuto fare dei passi il mio primo passo è stato quello di attendere le istruzioni io attendevo istruzioni da parte del Signore perché ho messo tutta la mia causa nelle sue mani in prima cronache quando nel capitolo 14 quando Davide deve combattere contro i filistei ai versetti 14 e 15 prima cronache 14 versetti 14 e 15 si dice Davide consultò di nuovo Dio e Dio gli disse non salire dietro di loro ma girali alle spalle e piomba su di loro di fronte ai balsami quando udrai un rimore di passi sulle cime dei balsami i balsami sono alberi di gelsomino lanciati subito all'attacco perché Dio uscirà davanti a te per sconfiggere l'esercito dei filistei quindi il primo passo che ho dovuto fare è stato quello di aspettare che si manifestasse la presenza del Signore affinché attenzione potesse indicarmi come sconfiggere il nemico che non era mio fratello ma era colui che c'era dietro mio fratello ho atteso che il Signore mi indicasse come sconfiggere il nemico immediatamente cosa ha fatto il Signore mi ha ricordato ciò che Giacobbe fece per potersi rapacificare con suo fratello Esau il Signore mi ha messo davanti questo e ho dovuto fare un secondo passo prima attendere istruzioni mi ha fatto vedere ciò che Giacobbe fece per rapacificarsi con Esau e ho dovuto fare un secondo passo prima di incontrarlo voi lo sapete Giacobbe mandò mediante i suoi servi dei doni perché il cuore di Esau si addolcisse prima di incontrare suo fratello Esau Giacobbe mandò dei doni attraverso i suoi servi a Esau suo fratello affinché il suo cuore si addolcisse cosa ho fatto io ho cominciato a fare esattamente questo ma quali doni potevo mandare io per addolcire il cuore di mio fratello quali doni Giacobbe mandò i suoi servi io dovevo fare avevo avuto istruzioni di mandare dei doni a mio fratello per addolcire il cuore ma quali doni potevo mandare io potevo mandare una potente preghiera di intercessione chiedendo che il cuore di mio fratello si addolcisse che cadessero tutti i baluardi che lui aveva costruito che il Signore stesso con la potenza del suo spirito gli facesse vedere come una situazione di mancanza di pace nuocesse a lui e alla sua famiglia questa è stata la preghiera di intercessione il secondo passo prima ho aspettato le direttive poi il Signore mi ha fatto mi ha messo il cuore di mandare dei doni quali doni preghiera di intercessione Signore fai capire a mio fratello che questa mancante di pace nuoce a lui alla sua famiglia e a tutti noi e ho chiesto al Signore di intervenire per addolcirgli il cuore col dono della pace questo è il dono il dono della pace poi il terzo passo il più difficile di tutti doveva cadere a me quello che accade a Giacobbe prima dell'incontro con Esau doveva cadermi questo la mia anca doveva essere spezzata dovevano riconoscermi vincente attenzione io avevo ragione ma dovevo riconoscermi vincente e sentirmi spezzata l'anca delle mie ragioni e mettere tutte le mie ragioni nelle mani del Signore e ho messo tutte le mie ragioni nelle mani del Signore e allora cosa è successo ero sicuro che una parte di quello che dice Matteo 5 sarebbe diventata realtà nella mia vita che dice se qualcuno ti chiede la tunica dagli anche il mantello se qualcuno ti obbliga a fare un miglio tu fanne con lui due il mio cuore si è risposto a questo Signore ho ragione ma ecco la mia tunica ecco il mio miglio in più perché ho deciso attraverso la potenza del Signore e la mia volontà di essere sale della terra e luce del mondo noi dobbiamo essere così via ogni ragione sale della terra e luce del mondo punto più difficile era questo dire Signore io non ho ragione se non porto la pace negli altri posso avere tutte le ragioni del mondo ma Gesù mentre noi non avevamo ragione è morto per noi ci ha dato la sua pace attraverso la sua morte e noi dobbiamo anche quando abbiamo ragione morire a noi stessi e portare la pace di Cristo questo è quello che dobbiamo fare poi c'è stato il quarto passo quarto passo l'incontro l'incontro ma sono andata all'incontro con fede piena che la vittoria di Cristo si sarebbe manifestata e così è stato pace tranquillità serenità più grande amore di prima perché ho accettato che la mia anca fosse spezzata e così è stato e la pace è ritornata e la pace è ritornata allora riflettendo su tutto questo che mi è successo perché ho voluto seguire la via del Signore ho voluto seguire ma ho detto hai predicato che devi seguire la via del Signore hai parlato con gli altri adesso ti metto la prova devi seguire la mia via anche se ti costa e l'ho fatto e la vittoria è stata grande la vittoria è stata grande riflettendo su tutto questo ho compreso che nel momento in cui noi col cuore dichiariamo di essere disposti attenzione non con la bocca dal momento in cui noi col cuore siamo disposti a lasciare anche con ragione tunica e mantello il Signore sapete cosa fa? non ci lascia nudi riprende la tunica e il mantello ancora più belli e ci ricopre nuovamente questo fa il nostro Signore non rimarremo mai senza tunica senza mantello se gliela diamo lui la giusta la doverotta ce la mette di nuovo adosso ma 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 in quel momento noi sappiamo che quella tunica e quel mantello non sono di nostra proprietà ma sono un dono che Dio ci fa è un dono che il Signore ci fa e allora quando noi vediamo che tutto quello che ci succede nella nostra vita tutte le meraviglie che succedono nella nostra vita noi vediamo che è un dono la riconoscenza deve sgorgare dal nostro cuore deve esserci una riconoscenza incredibile che sgorga dal nostro cuore non più un diritto da far valere non ci sono diritti non ci sono diritti ma permettere che il principe della pace vinca attraverso di noi che mostriamo che abbiamo il principe della pace dentro di noi che mostriamo che siamo diversi non a parole ma a fatti e allora se noi ci sottomettiamo questo e molte volte è difficile saremo ricompensati ampiamente dal nostro Gesù c'è una potenza straordinaria quando sottoponiamo la nostra vita le nostre ragioni i nostri ragionamenti al Signore c'è una potenza enorme quando la sottoponiamo a Lui Lui stende il braccio e opera trasformazioni insperate ha cambiato l'acqua in vino può cambiare qualsiasi cosa se la lasciamo a Lui nelle sue mani e lo lasciamo trasformare la nostra vita le nostre opinioni le nostre sensazioni e la nostra stessa esistenza perché il nostro Gesù ci ama vuole il nostro bene e non permetterà che nulla ci uccida perché la nostra battaglia è contro principati e potestà e noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù vedete quando noi vogliamo avere ragione è come se avessimo un cuore di pietra io ho ragione io 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 sono io ho ragione io ho un cuore di pietra perché non vedo nell'altro il volto di Cristo io non vedo nell'altro il volto di Cristo se io vado verso l'altro io dico tu 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 io non vedo nell'altro il volto di Cristo il mio cuore in quel momento è un cuore di pietra e io devo chiedere al Signore che mi trasformi questo cuore di pietra in un cuore di carne affinché io quando vedo un fratello che anche mi ha fatto del male mi ha tradito mi ha fatto qualsiasi cosa io posso abbracciarlo e dirlo io ti abbraccio come il Signore ha abbracciato me quando non meritavo nulla questo è il cuore di carne un cuore dolce i cuori di pietra nelle mani del Signore diventano cuori di carne io l'ho toccato con mano perciò esorto tutti voi e ve lo chiedo con tutto il mio cuore quando si presenta nella nostra vita cari fratelli attenzione quando si presenta nella nostra vita una situazione in cui un cuore sembra impossibile da riconquistare quando si viene alla nostra vita una situazione in cui sembra impossibile da riconquistare un cuore vi invito a fare i passi che vi ho enumerato e ve li ripeto prima attesa dalle istruzioni di Dio cosa devo fare Signore ci sono i tempi del Signore e i modi del Signore secondo invio del dono qual è il dono che possiamo dare noi non un dono che marcisce il giorno dopo o lo perdiamo preghiera intercessione e l'ode al Signore questo è il dono più bello dono preghiera e digiuno perché tanti di questi di queste di queste cose di questi demoni si vincono solo con la preghiera e il digiuno e fare questa preghiera questo digiuno questo dono prima di incontrare la persona perché si possa creare un'atmosfera satura del profumo del Dio vivente che noi dobbiamo portare noi cari fratelli dobbiamo essere il profumo di Dio in questa generazione perversa il profumo di Dio terzo sottomissione totale della nostra vita e di tutto il nostro essere sottomissione della nostra vita e di tutto il nostro essere al Dio vivente pronti e qui è importante perché è difficilissimo pronti a rinunciare a quanto ci spetterebbe pronti a rinunciare a tutte le nostre ragioni per vedere trionfare Cristo pronti a rinunciare a quanto ci spetterebbe di diritto perché comunque cari fratelli care sorelle c'è comunque chi difende sempre la nostra causa e colui che difende la nostra causa si chiama Gesù sempre la difenderà sempre quarto c'è l'incontro dichiarando prima di andare all'incontro la certezza che la vittoria del Signore sarà con noi perché l'ha preparata per noi e dobbiamo crederla con fede se andiamo con un cuore di carne e non con un cuore di pietra ecco allora fratelli che nasce nel nostro cuore quando abbiamo questa vittoria e a me è nato a me è nato un canto che conoscono solamente i redenti come si dice in Apocalisse 14 seguono l'agnello ovunque egli va noi seguiamo il Signore ovunque egli va e loro come noi siamo per Dio la primizia leggiamo il versetto 3 che dice essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti ai quattro esseri viventi e agli anziani e nessuno poteva imparare il cantico sono i 144.000 i quali sono stati riscattati dalla terra ma perché si possono vedere queste cose perché possiamo cantare perché possiamo lodare il Signore perché possiamo essere diversi perché gli altri possono vedere qualcosa di noi diverso se abbiamo scritto il nome del Signore sulla nostra fronte di Dio se noi andiamo davanti a qualcuno con le nostre armi umane noi perdiamo perché ci sarà sempre qualcuno più forte di noi sempre qualcuno più intelligente di noi sempre qualcuno più colto di noi sempre qualcuno più in gamba di noi e perderemo e saremo delusi perché noi vogliamo vincere sempre ma quando è che siamo sempre vincitori siamo sempre vincitori in Cristo Gesù perché non perché noi combattiamo ma perché lui combatte per noi non con noi attenzione c'è una grande differenza tra le due cose non con noi perché se lui combatte con noi vuol dire che noi abbiamo della potenza ma se lui combatte per noi come è così è è che lui ha tutta la potenza è lui che combatte a nostro vantaggio questo è il mio Gesù che combatte per me se io lo lascio combattere ma se io voglio fare da solo lui mi dice fai fai pure e sbatterai la testa contro il muro perché senza di me non puoi fare nulla questo è quello che dice il Signore Gesù allora se noi diamo tutte le nostre ragioni a Gesù Signore io ti do tutte le mie ragioni ti do tutto ti lascio fare fai tu come vuoi non è passività non siamo passivi non siamo passivi la passività non è questa cedere le armi a un altro è la cosa più difficile che ci sia perché noi pensiamo di poter combattere meglio degli altri questa non è passività è fede questa è fede è fede nel fatto che abbiamo la posizione in Cristo e nessuno ce la toglierà mai questa è fede lasciamo combattere Cristo però quando lui ci parla seguiamolo ma se io voglio combattere dire mai a me non piace questo io ho ragione perché devo andare a dare ragione a uno che mi ha offeso umanamente parlando è debolezza sei un fesso ti dice il mondo ma Gesù ti dice sei meraviglioso perché lasci fare a me e la vittoria finale è mia la vittoria finale è mia e noi cari fratelli lo sappiamo siamo forti quando ci sentiamo deboli perché solo Gesù è la nostra forza e allora veramente sgorgerà un canto un canto meraviglioso e abbiamo scritto di Dio gli altri quando guardano me non devono vedere bello o brutto galto o basso bianco o rosso o nero non mi interessa niente sono passate le solfe le storie debo essere debo essere sono finite dignità non mi interessa nulla della dignità dell'uomo uno può dirmi quello che vuole non mi interessa niente sapete perché? perché io ho la dignità del figlio di Dio che è la dignità più alta che ci sia e l'ultima parola della mia vita aspetta sempre solo al Signore non all'uomo e allora se io vado davanti a un fratello o una sorella e lui vede che c'è qualcosa di diverso e vede Gesù in me verrà attratto verrà attratto ma se vede Romolo scappa lontano dieci miglia forse cinquanta Gesù inoltre non è un bel giochetto un giocattolo dove io posso giocare con Gesù un po' sì e un po' no un po' la trottola un po' lo giro oggi mi sento faccio domani non mi sento non faccio oggi vado al culto domani no oggi ho mal di pancia oggi ho mal fratelli attenzione Gesù è amore ma Gesù è serio se non sentiamo la necessità di stare con Gesù vuol dire che non lo conosciamo perché di solito se noi conosciamo una persona l'amiamo perché è morta per noi ci stiamo volentieri insieme sempre e nessuno ci distoglie a meno che non ci siano ragioni speciali ma il nostro desiderio deve essere quello di stare con Gesù di stare con i fratelli perché è lì che c'è la benedizione è in abbondanza Gesù è serio Gesù è una cosa seria Gesù è una cosa seria Gesù è vita Gesù non è un culto settimanale Gesù non è una bella pregherina fatta a memoria piangendo ridendo saltando stando fermi Gesù è vita Gesù è vita gli altri vedono Gesù in noi quando siamo insieme che cosa sono i nostri discorsi sono discorsi di critica di ira di maldicenza sono discorsi in cui si esalta il fratello e si esalta Cristo facciamo un attimo un po' di esame di coscienza perché se non è così allora se noi diamo la vita al Signore e onoriamo il fratello perché c'è Gesù in lui allora veramente diamo tutta la nostra attenzione al Signore e cantiamo un canto di lode un canto di lode continua questa lode che deve venire per quello che siamo fratelli se siamo qui questa mattina a parlare del Signore a poter cantare a poter lodare a poter stare insieme a poter godere della compagnia è per grazia se noi siamo qua stamattina ad ascoltare la parola di Dio è per grazia ci sono persone che non possono ascoltare la parola di Dio perché li mettono in galera e li uccidono è tutto è per grazia e non diamo lode al Signore non viene fuori un canto di gloria di lode al Signore dovrebbe uscire immediatamente il Signore cosa posso fare per lodarti cosa posso fare per compiacerti cosa posso fare per pregare per lodarti per stare insieme cosa posso fare lodarlo con un canto di lode perché deve sgorgare dal nostro cuore non perché vogliamo cantare bene o suonare bene o parlare bene o predicare bene tutte cose che con l'uso se ne vanno ma perché Cristo è la nostra roccia questa deve essere la nostra lode allora vogliamo adesso in questo momento alzarci e cantiamo un canto di lode un canto di lode che sgorghi dal nostro cuore fratelli che sgorghi dal nostro cuore perché siamo dei redenti siamo dei redenti cioè noi siamo d'accordo siamo d'accordo siamo redenti e siamo redenti perché Gesù è morto per noi grazie a tutti grazie a tutti Niente come il tuo amor Non si ricambia ciò che hai dato Mi hai fatto entrare nella vita Gostare un grande amore che salva Per sempre appartengo a te Per camminare insieme a te No, non c'è più grande amore Mi sei la via e l'auto Niente come il tuo amor Non si ricambia ciò che hai dato Mi hai fatto entrare nella vita Gostare un grande amore che salva Per sempre appartengo a te Per camminare insieme a te No, non c'è più grande amore Mi sei la via e l'auto No, non c'è più grande amore No, non c'è più grande amore Alleluia Portano l'onore al grande re Vieni con forza e potenza Mentre non c'è più grande amore Mentre inanziamo il nome tuo Gostare un grande amore che salva Gostare un grande amore che salva Gostare un grande amore che salva Gostare un grande amore Gostare un grande amore che salva Tu sei santo tu sei santo, siamo redenti, ascolta il canto, tu sei santo, tu sei santo, siamo redenti, ascolta il canto, tu sei santo, siamo redenti, ascolta il canto, tu sei santo, tu sei santo, siamo redenti, ascolta il canto, tu sei santo, tu sei santo. Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti ai quattro esseri viventi e agli anziani e nessuno poteva imparare il canto, sono nei 144.000 i quali sono stati riscattati dalla terra. Il Signore sia benedetto. Amen.